Le piogge di questi giorni hanno creato nuovamente disagi all'ospedale di Fratta Maggiore. Come mesi fa ad essere chiuso il reparto radiologia che ha portato molti pazienti a doversi recare al San Giuliano per poter usufruire dei servizi di radiologia. Da ieri infatti regna il caos all'interno del reparto del nosocomio giulianese. Sono bastati dieci minuti di pioggia per creare di nuovo il disagio nella struttura di Fratta. L'ospedale di Giuliano ovviamente avrà questa ripercussione con questo grosso disagio che noi già nei mesi pregressi abbiamo subito e ci siamo dati da fare per sopperire a questa situazione. Noi vogliamo collaborare con l'azienda però vogliamo anche delle risposte perché ad oggi siamo solo alle chiacchiere. La nottata è già stata difficile perché chiaramente la radiologia ha dovuto sopperire anche a tutta l'utenza che era della zona frattese. Noi già da sei mesi stiamo sopperendo per il precedente allagamento a quello che è stata un'emergenza e l'abbiamo fatto con spirito di sacrificio. Però chiaramente adesso siamo leggermente stanchi non solo perché vediamo che dopo 15 giorni si è ripresentato il problema. Noi chiediamo soltanto un aiuto, una forza umana che ci dia supporto in questa emergenza. Chiaramente se Fratta chiude la radiologia sarebbe molto semplice mandare un qualche operatore a darci una mano, ad aiutarci. Solo questo chiediamo.